Cari amanti del luccicchio e del lusso, benvenuti nel cuore palpitante dell'arte e della celebrità, qui su News Gossip World. Oggi vi apriamo le porte di un universo fatto di luci scintillanti e talenti straordinari, dove ogni segreto e ogni emozione si intrecciano in una danza affascinante. Preparatevi un caffè e accomodatevi, perché siamo pronti a svelarvi i segreti dei discendenti di una vera icona, il leggendario Gianni Morandi. Siete curiosi? Guardate il video fino in fondo. Marianna Morandi, questa musa incantata, nata dall'amore tumultuoso tra Gianni e Laura Efrician, ha conquistato il palcoscenico sin dalla giovinezza. Oltre a riecheggiare le note di suo padre, Marianna ha fatto risplendere il suo talento nell'arte drammatica, grazie alla prestigiosa Accademia Silvio D'Amico di Roma. Una stella poliedrica che ha brillato sia sul palco che sullo schermo con la miniserie avvincente La forza dell'amore. Ma l'amore non è solo sullo schermo, dato il suo legame passato con il rinomato cantante Biagio Antonacci, dal quale sono nati due piccoli gioielli. Marco Morandi, il nostro principe delle note, nato dall'incanto di Gianni Morandi, ha affascinato le folle degli anni 90 con il suo gruppo per cento netto. Le sue melodie coinvolgenti ci hanno fatto ballare e sognare, ma Marco è molto più di un'armonia vocale. L'arte scorre nelle sue vene, manifestandosi anche attraverso la recitazione teatrale. E che dire del suo orgoglio paterno? Padre di tre splendidi eredi, Marco dimostra che il suo talento è il suo regalo più prezioso. Pietro Morandi, la melodia moderna, trova la sua voce in Pietro, il giovane astro dell'arte. Nato dalla passione tra Gianni e Anna, Pietro ha abbracciato la musica come un bacio appassionato. Collaborazioni con i grandi e creazioni futuristiche hanno spinto i confini sonori, e il suo nome risuona nella modernità musicale fin dal 2018. Un erede del futuro, portatore di una nuova era. In eterno splendore, l'eredità d'arte dei Morandi è come un eco inebriante che si diffonde da generazione a generazione. Ogni figlio, un gioiello prezioso nel grande mosaico dell'arte. Cari amici, è stato un viaggio mozzafiato nell'universo delle stelle e delle passioni. Vi chiediamo solo un piccolo gesto. Mostrateci il vostro affetto. Cliccando il pulsante a forma di cuore, iscrivendovi, e condividendo i vostri pensieri dorati nei commenti. Con il vostro sostegno, continueremo a raccontarvi storie scintillanti e vibranti. Vi amiamo più di quanto Gianni amasse i suoi palcoscenici. Sintonizzatevi per il prossimo capitolo di Glamour e Gossip, qui su News Gossip World. Non mancate, perché il mondo delle celebrità non si ferma mai.